Voglio chiedere se c'è un po' di soddisfazione di vedere un po' di italiani in campo oggi in questo Monza Udinese. Sì, sì, un po', sì. Il Monza è una delle squadre che ne schiera di più, gli italiani, è una tendenza che in Serie A un po' si sta perdendo. C'è un po' di soddisfazione oggi e rammarico in generale? No, vabbè, c'è un po' di dispiacere, ma è così, quindi dobbiamo fare con quello che possiamo avere. C'è qualche nome in questo inizio di Serie A che la sta incuriosendo in particolar maniera? Alcuni dei suoi hanno cambiato squadra, penso a Raspadori, penso a Scamacca che è andato all'estero, anche questa tendenza ad andare all'estero, come la vede? Io, come ci hai detto, penso che quella sia una cosa positiva, se i giocatori giovani hanno la possibilità di andare all'estero, fare esperienza, credo che possa essere sicuramente un miglioramento. L'importante è che i giorni posti. Sta arrivando anche un ciclo importante. Cosa si aspetta da questa nuova ripartenza che abbiamo avuto? Sì, è una domanda. Sì, è una domanda. E' un po' di risultato. Ci sono un po' di risultato. E' un po' di risultato.